Ehi, io sono Alberto e ultimamente ho avuto modo di provare questi giocatorini, quindi oggi ve ne parlo un po'. I microfoni in questione sono i Lark 150, vi sarà sicuramente capitato di vedere qualcosa di simile a questi ultimamente. Ovviamente sto parlando dei Rode Wireless Go 2. L'impostazione è praticamente identica, infatti anche solo aprendo il case e guardando il contenuto di questa stazione di ricarica vediamo che c'è un ricevitore e due trasmettitori, proprio esattamente come il Rode Wireless Go 2. Con l'unica differenza è che questi Holyland Lark 150 hanno un kit completo, poi vedremo esattamente cosa c'è dentro, a 230€. Mentre se andiamo a guardare il Rode Wireless Go 2, solo i microfoni, quindi due microfoni più ricevitore, vengono 250€. Quindi stiamo andando a pagare praticamente lo stesso quantitativo di prezzo, ma per due soluzioni completamente diverse a livello di accessori garantiti con l'acquisto. Infatti se con il Rode Wireless Go 2 ricevete due trasmettitori, due filtri antivento, il cavetto per il collegamento alla videocamera o registratori esterni, tre cavi di ricarica, con questi Holyland ricevete il ricevitore, due trasmettitori, i due filtri antivento, ma attenzione, attenzione, soprattutto due lavalier esterni. Oltre al cavo TRRS, cioè quello con i tre trattini neri, che serve per collegarlo al PC o al vostro smartphone. Poi chiaramente se siete borghesi e avete un iPhone dovrete necessariamente comprarvi un adattatore Lightning. Questo è come si presenta il trasmettitore. Sul lato superiore possiamo notare il microfono integrato, lo slot per il microfono esterno, che si collega in questo modo semplicemente inserendolo, ma che ovviamente può ospitare anche qualsiasi altro microfono esterno come questo Rode VideoMicro ad esempio. A patto ovviamente che si tratti di un connettore TRS. Ma stacchiamo questo microfono e proseguiamo con l'overview della scocca. Qui abbiamo rispettivamente in verde indicatore del livello della batteria e indicatore del collegamento con il ricevitore. Non andare fuori fuoco, mannaggia a te. Sul lato invece c'è il bottone Mute, che è quello che dovrete stare attentissimi a non far premere a nessuno di quelli che state microfonando. Se vi state microfonando voi stessi, mi raccomando, le mani in tasca. La clip sul retro è una clip, però ha un feeling leggermente più cheap rispetto a quella del Rode Wireless Go. Vi faccio sentire un attimino il rumore. Io adesso facendo così un po' di apre e chiudi con la molla sento un pochino di rumore di plasticozzo. Poi il mio amico Davide che me li ha prestati e sono sicuro che ce li abbia da un sacco e che li abbia usati un sacco di tempo, ma anche io i miei Rode Wireless Go li ho utilizzati per registrare una trasmissione televisiva per tutto l'anno. E questo rumore di plasticozzo non lo fa assolutamente. Passando invece al ricevitore, per quanto mi riguarda è molto più comodo questo rispetto a quello di Rode Wireless Go. Ma per un fatto molto stupido, che se voi posizionate la camera sotto di esso, o meglio esso al di sopra della camera, sia lo schermo che i controlli del gain sono sempre davanti alla vostra faccia, a differenza del Rode Wireless Go che se invece viene posizionato al di sopra della camera, ha lo schermino al di sopra. E quindi per guardarlo devi fare questo. Il tacchino. Ruotando invece sul lato destro, guardandole da davanti, cioè così, troviamo che abbiamo l'uscita cuffie per monitorare in comodità tutto ciò che il ricevitore sta catturando. Qui abbiamo il tasto di accensione e spegnimento, qualora decidiamo di tirare fuori il ricevitore dalla base, e vogliamo spegnerlo per non fargli scaricare le batterie. Mentre sul lato sinistro abbiamo l'uscita line-out, che è quella alla quale dovremo collegare il nostro bellissimo cavetto TRS, per poi collegarlo a sua volta al nostro registratore esterno o alla nostra videocamera. Ad ogni modo, non appena io tolgo uno dei trasmettitori dalla scatola, esso si connetterà automaticamente al ricevitore. E vedete che se ci parlo dentro sta già ricevendo del segnale. Ora, prima ancora di farvelo sentire, me lo collego un attimino qua, per avere le mani libere, anzi qua su così lo vedete bene anche voi, e vi faccio vedere una cosa che mi ha lasciato un pochino perplesso, perché se noi andiamo a premere effettivamente il pulsante mute qua, ovviamente il microfono si muta e compare il simbolino del mute. Se poi lo ripremiamo, ovviamente si smuta e riprende a funzionare e a ricevere il segnale. Cosa che mi mette a disagio è che qua sotto voi potete leggere chiaramente output 9, quello indica il volume del gain, il che significa che io ruotando questo pomello qua corrispondente al microfono, posso effettivamente variare il livello del gain, che va da un minimo di 0 a un massimo di 20. Il problema è che quello è il gain di output, non il gain di input. E cosa vuol dire questa roba? Che se noi dovessimo andare a registrare qualcuno che urla veramente tanto, oppure posizioniamo leggermente male il microfono e la voce va direttamente verso la capsula, non saremo in grado di prevenire il clipping sul ricevitore. E perciò con questo pomello controlleremo semplicemente il livello del volume che arriva al nostro registratore, che può essere il telefono, la videocamera o bla bla bla. Ma vabbè sorvoliamo temporaneamente su questa cosa che per ora non credo possa essere un problema gigantesco, perché anche se alzo la voce tantissimo, molto difficilmente vado a raggiungere un livello pericoloso. Il che significa che o c'è un'autoregolazione del gain, cosa un pochino spaventosa, oppure semplicemente è in grado di gestire volumi molto alti, cosa che mi renderebbe molto felice ma che purtroppo per ora non sono in grado di verificare. Detto ciò invece tenendo premuto uno dei due tasti del volume, possiamo accedere alle varie modalità. In questo momento ci troviamo nella modalità stereo, la più standard e semplice di tutte quante. Banalmente un microfono viene registrato sulla traccia sinistra e l'altro microfono invece viene registrato sulla traccia destra. Questo è il setup più standard di tutti che consente ad esempio di registrare da una parte un intervistato, dall'altra l'altro intervistato e poter agire separatamente su entrambe le registrazioni facendo dei tagli, equalizzando, comprimendo e bla bla bla. Premendo ancora invece si arriva alla modalità mono, spero che a questo punto voi vediate tutto quanto, anche se il display è retroilluminato, mi auguro di sì. La modalità mono unisce indissolubilmente le due tracce, quindi non avrete più una traccia di un microfono sul canale sinistro e l'altra sul canale destro, ma entrambe le tracce in entrambi i canali. Il che significa sì più comodità in editing, perché quando lo importate all'interno di un software avete già tutto quanto assieme, non dovete dividere il canale sinistro da quello destro, non dovete poi duplicare i rispettivi canali per non sentire una persona solo dall'orecchio destro e l'altra solo dall'orecchio sinistro. Però se a un certo punto uno dei due intervistati rutta e voi volete tagliarlo, non potete farlo, perché è stampato anche sull'altro canale. Sono scelte ragazzi, sono scelte. La terza e ultima modalità invece è quella stereo a meno 6db, che come nella modalità mono entrambi i microfoni verranno stampati sullo stesso canale, ovvero il canale sinistro, mentre sul canale destro troveremo questa stessa identica copia dei due microfoni fusi assieme, però a 6db in meno. Quindi a questo punto il mio consiglio è, se dovete registrare mono, tanto vale che registrate stereo a meno 6db, così almeno vi tenete il canale di sicurezza. Anche se secondo me il massimo della comodità di questa funzione stereo a meno 6db è se vi registrate da soli o se comunque registrate una sola voce per volta, perché a quel punto avrete una singola voce sul singolo canale sinistro con una traccia di sicurezza invece nel canale destro. Ma bando alle ciance, come si dice in Sardegna, vi ho alloriato fin troppo con tutto questo setup, questo microfono me lo tengo addosso e vado ad attaccare il cavetto TRS al mio bellissimo ricevitore di questi Holyland, mi raccomando nell'uscita line out e non in quella dall'altro lato, che è quella predisposta per le cuffie, e andiamo a registrare un test di questo microfono. Ok, in questo momento state ascoltando la mia voce direttamente dal trasmettitore degli Holyland Lark 150. Queste suono completamente privo di effetti, completamente dry, in modo tale che possiate sentire esattamente come suona. Se siete curiosi, il livello di output del trasmettitore è a 5. E prima ancora di andare ad ascoltare effettivamente la traccia, mi rendo conto che il livello del rumore di fondo è un pochettino altino. Ok, coloriamo questa traccia di blu in modo tale che la distinguiamo e tutto il resto siamo un pochino più felici, andiamo a registrare invece un'altra traccia con il nostro bel lavalier inserito. Quello che invece state ascoltando adesso è il suono del lavalier e del Lark 150 collegato direttamente al trasmettitore che è poggiato sulla mia coscia e trasferisce il segnale qui a circa 30 cm al ricevitore. Noto immediatamente che il volume di uscita è praticamente identico, questo è molto comodo perché qualora voi abbiate già fatto il gain sul ricevitore e decidete successivamente di collegare il lavalier al trasmettitore perché vi viene più comodo per motivi estetici, non dovete stare lì a spipolare, a regolare nuovamente il gain perché il volume sarà più o meno identico. Tra l'altro noto che anche il rumore di fondo è rimasto pressoché identico quindi immagino che le differenze le vedremo a breve durante la fase di ascolto. Giusto per completezza invece quello che state ascoltando adesso è il suono dei Rode Wireless Go 2, completamente privi di effetti. Ora andremo a vedere quali sono le differenze e poi ci sentiremo più tardi per le conclusioni finali. Ok, eccoci qua in sessione con le nostre tre registrazioni. La prima è quella dell'ARC sprovvisto di lavalier esterno, la seconda invece è quella dell'ARC con il lavalier esterno e la terza è la registrazione del Rode Wireless Go senza lavalier. Potete vedere che qui c'è un piccolo cambiamento nel volume ma semplicemente perché ho dovuto rifare questa registrazione e perché ho fatto dei casini io vi assicuro che queste due tracce sono uscite allo stesso identico volume originariamente. Perciò andremo a dare un ascolto prima dell'ARC 150 sprovvisti di lavalier esterno. Ma ad ogni modo questo è il suono del trasmettitore completamente privo di effetti. Sicuramente si nota subito il rumore di fondo e anche il timbro non è particolarmente brillante e un pochino chiuso sulle medio basse. Tenete conto che un po' tutti questi tipi di lavalier hanno questo timbro un pochino scuro sempre lì sulle medio basse 250-500 Hz all'incirca. Però ecco diciamo che viene un po' difficile pensare di attaccare questo microfono registrarci direttamente e boom portarla a casa così. Ci vorrebbe un pochino di post-produzione sicuramente. Facciamo un attimo il confronto con il trasmettitore prima senza il lavalier e poi con... Ok quello che state ascoltando adesso è il suono degli olli uniti di lavalier esterno inserito al trasmettitore. Questo è il suono preciso senza... Ma più o meno siamo lì direi che come sound siamo lì c'è qualche leggerissima differenza nello spettro ma li potete usare tranquillamente in maniera quasi intercambiabile. L'unica differenza è data dalla comodità vostra all'interno della situazione. Andiamo a fare un piccolo confronto adesso invece tra l'ARC-150 e Roadward Let's Go. Ok quello che state ascoltando adesso è il suono degli Holy Land Let's Go 2 completamente privi di effetti. Ora andremo a vedere quali sono le differenze e poi ci sentiremo più tardi per le conclusioni finali. Stiamo parlando di due suoni molto diversi. Road sicuramente è il suono di partenza molto più chiaro che può essere un bene può essere un male per come la vedo io per chi deve fare un setup attacca e registra è sicuramente un bene perché il suono così senza effetti è molto più presentabile rispetto al suono senza effetti dei LARC. Per non parlare del rumore di fondo che come avete potuto sentire c'è una differenza abissale. Il Road ne ha veramente molto di meno c'è un rapporto segnale rumore molto molto più vantaggioso. Perciò in definitiva vi consiglio questi microfoni cavo sì perché per ricostruire tutto quanto il set che abbiamo visto con il Road ci vorrebbero qualcosa come 200 euro in più rispetto al costo originale perché stiamo parlando di cavi, lavari esterni, custodia di ricarica e non tutti quanti dobbiamo registrare per Broadway o per chissà che cosa. Quindi per quanto mi riguarda questi LARC-150 assolutamente approvati li consiglio a tutti quanti quelli che devono iniziare a registrare per delle interviste per dei piccoli contenuti per il web e in generale per tutte quelle piccole o medio piccole produzioni nelle quali l'audio è importante e fondamentale perché l'audio è sempre fondamentale però si può scendere a qualche piccolo compromesso. E voi cosa ne pensate? Li avete provati? Qual è il vostro modello preferito? Fatemelo sapere qua sotto con un commento. Ciao!